Come investire un milione di euro? È una domanda che nella vita non si fanno tutti, quindi se sei qui a guardare questo video perché effettivamente stai affrontando un problema di questo tipo, ti faccio i miei complimenti perché appunto sei nella cerchia ristretta di quelli che possono essere definiti in qualche modo i milionari. Ovviamente un milione di euro è un riferimento indicativo, questo video va bene anche se hai un po' meno di un milione, quindi un po' di centinaia di migliaia di euro o se hai magari anche due o tre milioni, la sostanza non cambia. Nel tempo che passeremo insieme vedremo qual è il primo obiettivo fondamentale che devi perseguire se stai cercando informazioni su come investire un milione di euro, vedremo quali sono i ragionamenti più importanti che devi fare se ti trovi a gestire una situazione di questo tipo e infine ti darò qualche consiglio pratico per approcciarti alla gestione del tuo patrimonio. Bentornato sul canale YouTube di Affari Miei, io sono Davide Marciano e sono il cofondatore di Affari Miei. A partire dal 2014 con la nostra attività guidiamo gli investitori che vogliono prendere il controllo del proprio patrimonio a farlo in maniera efficiente. Se questa è la prima volta che sei qui sul canale ti invito a iscriverti cliccando il tasto che trovi qui in basso e attivando la campanella delle notifiche così da ricevere i nuovi contenuti quando vengono pubblicati qui su YouTube, se già ci conosci ti invito a schiacciare un bel pollice verso l'alto così da permetterci di dare diffusione a questo contenuto. Last but not least, se stai cercando consigli, informazioni per cominciare ad approcciarti al mondo dell'investimento autonomo, qui in descrizione trovi un report con tre ETF scelti dal Centro Studi di Ricerche di Affari Miei che possono rappresentare una base per cominciare ad apprendere di più appunto su questo tema. Ciò detto, direi che gli elementi per passare insieme i prossimi minuti ci sono tutti, cominciamo subito dopo la sigla. Qual è il primo obiettivo che dobbiamo avere se possediamo un milione? È quello più banale, è quello di non perdere soldi. Come sanno le persone che seguono Affari Miei di a più anni, io dico sempre che avere i soldi è un problema esattamente come non averne. Perché? Perché entri in tutta una serie di situazioni che probabilmente non avresti mai conosciuto nella tua vita se non ti fossi trovato appunto a fronteggiare il problema di dover gestire un patrimonio. Questo ragionamento è estremamente più importante per tutte quelle persone che il milione di euro, per tutta una serie di ragioni, lo hanno ottenuto quasi all'improvviso. Quindi per chi magari lo ha ereditato, per chi ha fatto una exit, magari ha venduto l'azienda da poco, per chi lo ha vinto alla lotteria, perché qualcuno che alla fine vince al gioco c'è, per quanto il gioco sia una cosa poco raccomandabile. Insomma, sto parlando a tutte quelle persone che al milione ci sono arrivate all'improvviso. E perché questo aspetto è importante? Perché se il milione di euro magari lo hai accumulato nel corso degli anni, con un'attività lavorativa, con un'attività di impresa, probabilmente il problema di come investire i soldi te lo sarai già posto. Prima, con la nostra esperienza, abbiamo visto negli anni che la maggior parte delle problematiche relative alla gestione del patrimonio arrivano proprio quando il patrimonio stesso viene a crearsi appunto con un evento improvviso, con un evento che poteva anche essere atteso, ma che comunque non è stato metabolizzato in maniera graduale dalla persona. E sono convinto che probabilmente la maggior parte degli amici che guarderanno questo video si trovano proprio in questa situazione. Perché appunto insisto sul non perdere soldi? Fondamentalmente per due ragioni. La prima è che non avendo mai gestito un patrimonio così grande, potresti magari farti prendere dall'ansia. Oppure potresti farti prendere da quella frenesia di fare cose, spiattellando i tuoi soldi su varie situazioni, su vari investimenti, perché appunto dici cavoli un milione è tantissimo, quindi le provo tutte, qualcosa andrà bene. Ovviamente gestire così i soldi non è mai saggio, sia se hai un milione, sia se hai 100.000 euro, sia se hai 10 milioni. E tutte le persone che in passato hanno agito in questo modo hanno appreso questa lezione, pagandola a caro prezzo. La seconda ragione importante è che un milione di euro per tanti potrebbe essere magari l'obiettivo della vita. Qualcuno potrebbe dire, ah che bello, nel momento in cui ho un milione posso veramente vivere di rendita e non lavorare più e quindi posso essere anche meno attento rispetto a quello che faccio. Da un punto di vista teorico è vero, nel senso che un milione se ben gestito può rappresentare effettivamente un montante che può permetterti di integrare in tutto e in parte le due entrate da lavoro e ti può far vivere molto meglio. Però al tempo stesso, per questo è importante non perdere soldi, un milione finisce molto rapidamente. Per esempio l'errore che fanno tanti nel momento in cui entrano in possesso di capitali così importanti è quello di alzare subito il proprio tenore di vita perché uno dice che è bello, sono milionario, posso permettermi cose che non potevo permettermi prima. Il problema è che facendo in questo modo, senza prestare attenzione, senza pianificare adeguatamente la gestione del capitale, il milione può finire veramente in pochissimo tempo. Una cosa di sicuro non ha limiti, è proprio la nostra possibilità di spendere soldi. Perché? Perché più ne abbiamo e più possibilità si aprono appunto per fare nuovi acquisti. Se ci pensi, un milione in molte città italiane può andarsene facilmente tra macchina nuova, casa nuova, bella, grande, spaziosa e veramente poche altre cose. Quindi per quanto possa essere tanto, se tu hai condotto fino a questo momento, una vita normale, stai sicuro che nel momento in cui cominci a spendere di più, il milione finisce veramente in fritta. Fatta questa premessa di carattere introduttivo, adesso possiamo fare una serie di ragionamenti più legati proprio all'investimento del patrimonio. Nel farlo possiamo partire dalla previdenza. Perché? Perché giustamente molte persone dicono ma io adesso che ho un milione di euro posso anche non preoccuparmi più della mia pensione futura. Perché? Perché in teoria questo milione di euro, se ben gestito, può rappresentare appunto il capitale che un domani mi darà quella rendita integrativa o sostitutiva della pensione che altrimenti avrei dovuto costruirmi nel tempo, un po' alla volta risparmiando. Questo ragionamento è in parte vero, però posso aggiungerti tre passaggi che secondo me possono arricchire questo assunto di base. Il primo è che se lavori e decidi di continuare a lavorare è comunque importante continuare a pensare alla pensione. Perché? Perché soprattutto l'integrazione pensionistica privata è un po' la sostituzione dell'attività lavorativa, è collegata all'attività lavorativa. Quindi se già stai lavorando, se vuoi continuare a lavorare perché appunto ritieni opportuno farlo, è bene che continui a tenere distinto il patrimonio che adesso magari è cresciuto ed è diventato più importante e il reddito che in quanto tale continua a camminare su un altro binario. Il secondo aspetto che dobbiamo considerare è quello di evitare le trappole. Adesso che hai un milione di euro ti sembrerà accessibile qualsiasi cosa. Per esempio, ti sembrerà accessibile un pensiero del tipo adesso riscatto la laurea, faccio dei versamenti contributivi volontari o cose di questo tipo che saranno mai magari 20, 30, 40, 50 mila euro rispetto al mio milione di euro. Ti consiglio caldamente di evitare queste trappole o quantomeno di valutare se queste soluzioni rappresentano effettivamente una strada conveniente per te. Perché? Perché il riscatto della laurea, per esempio, o il versamento di contributi volontari viaggia sempre in parallelo con il binario del lavoro. A seconda di quanti anni di contributi avversati, quanti anni di mancano per la pensione, che montanti ha accumulato finora, queste strade possono essere stensate e profittevoli oppure possono appunto rappresentare una trappola. Il terzo ambito da considerare, sempre rispetto alla previdenza, è quello della pensione complementare o pensione privata. Perché? Perché ti ho detto prima che devi considerare l'attività lavorativa e ad essa devi associare l'aspetto pensionistico. La pensione privata ha lo scopo fondamentalmente di colmare il gap che si andrà a creare tra il tuo ultimo stipendio e la pensione pubblica che percepirai dall'Inps. Ora, quello che puoi sicuramente fare o continuare a fare magari è decidere di accantonare il TFR se lo stavi già facendo o se stavi pensando di farlo e quello eventualmente di far confluire verso la previdenza privata eventuali versamenti aggiuntivi che il datore di lavoro può decidere di attribuire ai dipendenti soprattutto nelle grandi aziende questo accade mentre quello che ti consiglio di non fare anche qui è cadere nelle trappole che ti si possono porre davanti. Perché? Perché nel momento in cui hai un patrimonio importante stai sicuro che proveranno a venderti qualsiasi cosa e proveranno a dirti magari versa sul fondo pensione perché così il tuo capitale potrà crescere nel tempo il che è vero ma consideriamo sempre che la previdenza privata va di pari passo con la tua attività lavorativa che vuol dire vuol dire che tu vuoi percepire l'integrazione pensionistica privata quando maturerai i requisiti per la pensione se il tuo milione di euro nella tua testa dovrebbe rappresentare magari una base con cui potrai decidere a un certo punto di smettere di lavorare prima andarlo a chiudere tra virgolette all'interno di una gestione pensionistica privata potrebbe essere una trappola che ti potrebbe appunto obbligare poi a lavorare fin quando non avrai maturato i requisiti pensionistici pubblici quindi presta attenzione a questo aspetto perché potrebbe essere anche questa una trappola passiamo adesso al punto successivo che è quello dell'allocazione generale del patrimonio come si investe un milione di euro possiamo fare tre considerazioni la prima è che con un milione di euro comincia a diventare interessante per esempio l'investimento in azioni singole di solito noi sconsigliamo l'investimento in azioni singole quando il patrimonio è di poche decine di migliaia di euro o di 100.000 150.000 euro per un motivo molto semplice perché rischiamo di non avere abbastanza spazio per andare a diversificare e il costo delle transazioni magari necessarie per acquistare le azioni potrebbe impattare troppo rispetto alla natura del nostro patrimonio in più investire in azioni singole comporta una manutenzione maggiore da parte nostra che vuol dire più tempo da dedicare per seguire gli investimenti o più soldi che dobbiamo spendere per pagare qualcuno che sostanzialmente ci aiuti a farlo questo discorso cade quando ci avviciniamo o superiamo il milione di euro perché? perché immagina di destinare per esempio il 10-15% all'investimento in azioni singole parliamo di 100-150.000 euro che puoi investire in azioni diventa molto più semplice fare singole operazioni quindi puoi anche comprare magari azioni che di base già costano 300-400 euro puoi anche avere un portafoglio appunto con diverse decine di azioni come posizioni singole da andare ad alimentare e non si creano i problemi che invece avresti con un capitale piccolo da destinare a questo tipo per dire investire 10.000 euro in azioni singole in certi casi può essere poco conveniente o non puoi riuscire proprio a diversificare perché magari con 10.000 euro non riesci neanche a comprarle alcune azioni soprattutto quelle più care o comunque poi dopo manutenere quel portafoglio magari facendo dei bilanciamenti degli aggiustamenti di poche centinaia di euro rischia di essere un gioco che non vale la candela invece con un milione di euro questa possibilità comincia a essere concreta e si può fare altra considerazione è che con un milione possiamo fare ovviamente anche qualche scommessa in più certo non possiamo diventare investitori seriali in start up perché lì servono decine di milioni per poter diversificare però diciamo che se siamo disciplinati possiamo cominciare a considerarlo qualche investimento alternativo di questo tipo possiamo magari investire appunto in azioni singole ma azioni singole non ampiamente capitalizzate ma azioni singole più piccole con potenziale ma ovviamente anche con maggiori possibilità di avere problemi perché perché avendo più soldi possiamo in maniera appunto disciplinata anche lì approcciarci ad una forma se vogliamo di scommessa ponderata terzo aspetto poi finale ma se vogliamo è quello più importante valgono le stesse regole di tutti gli altri o c'è un milione di euro o ne hai 500.000 o hai 3 milioni quando devi decidere la tua asset allocation devi sempre ancorarti a quelli che sono gli aspetti che devono considerare tutti quindi età orizzonte temporale e propensione al rischio il primo tema che possiamo smarcare è quello dell'orizzonte temporale perché ovviamente più anni hai a tua disposizione prima di dover aver bisogno di ottenere la rendita dal tuo patrimonio e più puoi prenderti dei rischi se invece già vuoi mettere a reddito quel patrimonio per percepire una rendita devi fare dei ragionamenti completamente diversi e quindi devi optare in generale per un'allocazione più conservativa del patrimonio il tema del rischio in parte è psicologico e in parte è cognitivo è psicologico perché ognuno di noi ha una capacità di sopportare le perdite differente è cognitivo perché questa capacità molte volte per esperienza abbiamo visto viene alterata in positivo o in negativo dalla conoscenza e dall'esperienza generale che si ha con i mercati finanziari se fino a ieri non ti sei mai interessato di questi temi probabilmente hai una conoscenza scarsa che ti porta a dire di avere un profilo di rischio basso se invece conosci già un po' l'argomento hai fatto già un po' di investimenti magari alcune dinamiche alcuni concetti che poi incontrerai nel corso del tempo quando dovrai gestire il tuo patrimonio ti sono già familiari e quindi nel complesso sei puoi essere più tranquillo l'aspetto dell'età è intimamente legato con il punto successivo che andremo ad affrontare tra poco cioè quello della successione perché è importante perché tante persone a torto o ragione considerano l'età una discriminante fondamentale io ho 70 anni razionalmente posso vivere altri 12 15 20 anni io vi auguro anche di vivere 120 però ovviamente i ragionamenti che si fanno a quest'età sono questi e qualcuno dice ma io ho una propensione basso poco tempo a mia disposizione perché poi muoio in realtà questo discorso è vero se non abbiamo eredi se invece abbiamo degli eredi entriamo nel punto successivo cioè quello della successione a chi andrà questo patrimonio quali sono i miei obiettivi per prima cosa se il nostro patrimonio dobbiamo lasciarlo a degli eredi che possono essere coniugi dei figli o altri soggetti che abbiamo individuato è chiaro che il tema dell'età vale fino a un certo punto perché? perché se opportunamente istruiti i nostri eredi potranno anche prendere il timone degli investimenti in futuro e se a noi quel denaro non serve per percepire una rendita ma vogliamo solo farlo crescere per lasciare quanti più soldi possibili agli eredi tutto questo assume una specifica rilevanza e fa accadere appunto quella atapica convinzione secondo cui una persona più in lago gli anni non dovrebbe prendersi dei rischi perché poi muore ma muore lui non muoiono i soldi quindi se i soldi devono andare a qualcun altro il problema è per certi versi relativo poi c'è il tema fiscale perché? perché come sai ci sono le imposte di successione nel momento in cui sto girando questo video l'Italia è ancora un paese molto generoso sotto questo punto di vista però un milione di euro rappresenta la franchigia per gli eredi più stretti più vicini che puoi avere cioè per esempio i figli se hai un solo figlio e il tuo patrimonio è inferiore al milione di euro va benissimo se il tuo patrimonio magari supera un milione di euro perché il milione di euro magari è quello che hai a livello finanziario ma poi ai mobili aziende altre attività beni di valore che in qualche modo devono essere trasferiti c'è da considerare appunto l'imposta di successione e in molti casi si può fare un minimo di pianificazione fiscale per fare in modo di ridurre appunto il carico che si andrà a sopportare nel momento in cui ci sarà questo trasferimento ovviamente quando parlo di riduzione parlo sempre di iniziative che si mantengono nell'ambito della legalità non c'è niente di strano insomma nel fare pianificazione fiscale l'importante è che rimaniamo nell'ambito della legalità e ci sono tante scelte intelligenti che possono farci risparmiare anche decine di migliaia di euro che poi sono decine di migliaia di euro in più che vanno agli eredi il che dovrebbe essere il nostro obiettivo se ci stiamo ponendo questo problema sempre legato alla successione c'è un altro tema c'è il tema delle liti da prevenire al mio paesino d'origine si diceva che i soldi hanno la capacità di far tornare la vista anche ai ciechi ora la scienza sta facendo progressi enormi negli ultimi anni e probabilmente i ciechi potranno tornare in certi casi a vedere nuovamente però appunto il denaro fa in tanti casi drizzare le antinne alle persone e quando è che si litiga? si litiga quando ha senso litigare e quando ha senso litigare quando ci sono i soldi ed è una cosa che devi considerare perché? perché magari i tuoi eredi vanno d'amore e d'accordo adesso finché tu sei in vita perché non si è ancora posto il problema appunto di dividersi quel patrimonio ma nella stragrande maggioranza dei casi purtroppo le liti vengono ad emergere quando purtroppo il deguius cioè la persona che lascia il patrimonio e fa testamento muore ora posto che le persone possono litigare sempre anche in presenza di un testamento fatto bene se nutri una qualche preoccupazione di questo tipo è bene che cerchi di pianificare in che modo magari cominciando già in vita a gestire l'aspetto delle donazioni magari scrivendo un testamento fatto bene che ti permetta appunto di rendere tutti felici e soddisfatti penso che sia questo l'obiettivo tuo o comunque ti permetta di realizzare quella che è la tua volontà in maniera che sia inattaccabile o difficilmente attaccabile perché poco conveniente insomma se possiedi un milione di euro anche questo è un problema che deve rientrare nell'ambito dei ragionamenti che devi fare arriviamo alla parte conclusiva di questo video qual è il consiglio più importante che mi sento di darti è quello di farti aiutare perché? perché abbiamo visto in apertura di questo video che la problematica che stiamo affrontando nella maggior parte dei casi riguarda persone che sono entrate in possesso del patrimonio a causa di un evento sia esso magari positivo come per esempio la vendita di un'azienda o una vincita oppure un evento negativo come magari un'eredità che fa seguito ad un lutto e quando non sei abituato a gestire così tanti soldi non sei neanche abituato a farti magari supportare ma lo fai in buona fede perché? perché pensi che sia relativamente semplice fare tutto magari alcuni dei problemi che ti ho detto non ti sarebbero neanche passati per la testa e qual è il modo più efficace a mio parere per farsi aiutare? il primo è l'educazione finanziaria come amiamo dire su affari miei se non capisci le cose finisci per pagarle di più o finisci per ottenere l'opposto di quello che ti serve e l'investimento in conoscenza è l'unico strumento che ti può permettere di ottenere dei risultati efficienti quando entri in possesso di un milione di euro sei circondato letteralmente da tante persone che a vario titolo dicono di volerti aiutare o vogliono farti investire o gestire i soldi banche non appena vedono i soldi ti contattano agenti immobiliari se sei in un posto piccolo dove tutti si conoscono proveranno a venderti immobili soluzioni di investimento e cose di questo tipo insomma di possibilità ne avrai diverse sotto questo punto di vista e probabilmente l'investimento migliore che tu possa fare è proprio quello in educazione finanziaria cioè cercare di capire meglio le cose affinché le tue decisioni possano essere ponderate se ci pensi già il tempo che mi hai dedicato nel guardare questo video rappresenta un ottimo investimento di tempo appunto in educazione finanziaria perché mi auguro di averti dato degli spunti a cui magari non avevi pensato però questo è solo l'inizio ci sono tante cose che è importante sapere noi come azienda come affarimi ci occupiamo da anni di fare educazione finanziaria attraverso una serie di percorsi educativi e formativi che hanno proprio lo scopo di mettere le persone nelle condizioni di esercitare una delega informata di evitare di bersi quello che gli viene raccontato dal primo che incontrano salvo poi scoprire che quello che gli hanno raccontato non funziona quando hanno già perso soldi con un milione di euro non hai scuse sotto questo punto di vista hai tutta la possibilità da un punto di vista economico di fare questo investimento che è legato al secondo tema che è quello della consulenza se non hai voglia di investire in educazione finanziaria e secondo me dovresti a prescindere da se vuoi farlo con noi o con qualcun altro ma se non hai voglia sotto questo punto di vista fatti assistere da consulenti che possibilmente devono essere indipendenti cioè dei soggetti che non sono legati a quello che ti vogliono vendere il consulente della banca è legato ai prodotti che ti deve vendere il consulente immobiliare è legato al fatto che tu ti compri una casa nel caso dei consulenti indipendenti come Affari Mie che è una società di consulenza finanziaria indipendente appunto le persone che ti aiutano vengono pagate direttamente da te e quindi non hanno conflitti di interesse nel darti dei consigli nel tuo esclusivo interesse perché appunto non ti devono vendere altro quello che ti vendono sono le informazioni che si devono adattare il più possibile alla tua situazione io mi auguro che questo video ti sia stato utile ci sarebbe ancora tanto da dire e tanto da discutere ma non voglio appesantirlo ulteriormente se hai piacere insomma nel continuare ad approfondire questo discorso qui in basso trovi i riferimenti per entrare in contatto con Affari Miei e insieme al nostro team potremo capire insieme se ci sono le condizioni per darti un supporto professionale sotto questo punto di vista per domande riflessioni osservazioni non esitare a commentare perché leggo sempre con attenzione i commenti e cerco di trarre ispirazione ovviamente da quello che dicono le persone che seguono il canale io ti ringrazio per l'attenzione e ti rinnovo l'invito a seguire i prossimi contenuti di Affari Miei a presto ciao